Non posso! Dunque, non vuoi far fidici, non si dì! Oh, ci stai sì! Dovremmo allora serci darci o non potremo trasformarti in imbramata principiante in esperta o mange mirabili messaggiò un cavaliere che stile impareggiabile che logica e gentile ti sembra di conoscervi da sempre amato bene Voi ridete ed io sono rovinata rovinata e io ho il cuore Oddio! Devo sposare lui Amo d'Ossini e adesso con voi pure il letto fra i due ritinganti e mia madre chi dirà non sono più una sguentrina oramai fra tutte le donne che conosco e credimi sono tante tua madre se si le cara è la più squadrina Come, come usate ci torno di strano credi che i racconti fra donna e invece esperienza persona pensiamo al nostro tose dediciamoci anche noi all'arte di un reu di scambio d'amore Scrivete con me Il mio caro In vano fredato Questa passione consigrante Il mio caro Il mio caro Il mio caro Il mio caro